e ben ritrovati con vera mattina ripartiamo da un altro caso di cronaca che riguarda un giovane di appena eh ventun anni che è stato ritrovato eh morto eh a Vienna eh però è giallo sulle cause del eh decesso. Allora andiamo a collegarci con il nostro Thomas Delbianco perché il ventunenne è originario di eh Piobbico in provincia di eh Pesaro Urbino. Buongiorno Thomas. Sì buongiorno Stefania, buongiorno a tutti i telespettatori di vera mattina. Eh effettivamente resta il giallo anche se nelle ultime ore eh le le autorità sia quelle austriiche sia i carabinieri di di Piobbico che sono in collegamento con le stesse autorità di Vienna stanno escludendo eh cause che potrebbero essere come quella dell'omicidio ad esempio ma eh sempre più si va valorando l'idea che sia stato un gesto estremo. Il ragazzo ricordiamo l'è stato ritrovato nella notte tra venerdì e sabato eh vicino a un ponte eh di Vienna quanto pare secondo le ricostruzioni si sarebbe eh sarebbe precipitato dal ponte quindi eh si cerca di capire ancora le l'indagine va avanti per cercare di capire se eh il giovane eh sia caduto accidentalmente se sia stato un gesto estremo o se eh comunque ci possano essere stati altri motivi eh sembra che diciamo in in al momento si si esclude l'ipotesi dell'omicidio e quindi si cerca di andare avanti sulle altre ipotesi o accidentale oppure un gesto estremo sicuramente la comunità di Piobbico eh è stata gettata nello sconforte il ragazzo era conosciuto era eh considerato schivo taciturno però ehm diciamo era inserito nella comunità aveva giocato anche nella squadra eh di calcio del del Piobbico eh si era laureato all'istituto alberghiero si era diplomato scusate all'istituto alberghiero ed era arrivato a Vienna per cercare eh un futuro lavorativo lì eh eh abita il fratello il fratello Luigi che eh eh abita proprio a Vienna e quindi aveva avuto come base questa eh questa residenza del fratello per in attesa di trovare un'occupazione nel suo nel suo eh diciamo ambiente diciamo nel suo eh nel suo eh nel suo ambito lavorativo che ovviamente era quello della ristorazione eh legato all'alberghiero però eh la sua vita è finita eh in fondo a quel ponte. Eh Thomas intanto ovviamente eh noi ci stringiamo al dolore della famiglia di questo giovani di soli eh ventun anni volevo approfittare però della tua presenza anche per eh chiederti un ulteriore aggiornamento rispetto all'aggressione subita da un' infermiera in pronto soccorso da un utente insomma che eh ha effettuato l'accesso e eh appunto si è scagliata eh contro di lei eh quali novità ci sono su questo caso? Sì la la donna la 32enne di origine romena eh che era andata agli arresti domiciliari dopo l'aggressione al pronto soccorso eh ha avuto altri ha avuto altri problemi aveva dei precedenti eh ancora prima del del per resistenza pubblico ufficiale per aggressione aveva dei precedenti ancora prima dell'aggressione avvenuta al pronto soccorso e secondo le ultime informazioni eh ha avuto altri problemi in questo caso col marito lo stesso eh marito che aveva accompagnato al pronto soccorso quella sera prima di dare in escandescenza eh e l'avrebbe picchiato avrebbe sarebbe comunque si sarebbe comportato in maniera aggressiva in casa col marito tanto da eh per intervenire le forze dell'ordine la donna prima del dopo il dopo l'aggressione al pronto soccorso aveva messo le sue eh responsabilità dicendo che eh era ubriaca e anche se questo ovviamente non ha eh giustificato il gesto grave che ha commesso ai danni della della povera infermiera che ha avuto sette giorni di prognosi così come sono andati a pronto soccorso eh anche altri colleghi dell'infermiera che erano intervenuti per aiutarla anche eh eh le forze dell'ordine in particolare un carabiniere che era anche lui intervenuto fino all'arrivo della guardia giurata che era riuscito a bloccare la donna e eh e quindi c'è stata anche la eh l'udienza davanti al PM ieri c'è stato un eh primo approccio in tribunale il PM ha chiesto la condanna a nove mesi per la donna condanna a nove mesi e ora si terrà la sentenza in programma il 27 maggio. Grazie al nostro Thomas Delbianco per questo ulteriore aggiornamento sul tema ci sentiamo di eh ribadire quanto sia eh grave eh l'attacco nei confronti dei eh sanitari che operano per la nostra eh salute quindi ci auguriamo insomma che possano svolgere il proprio lavoro in piena eh sicurezza ma qualcosa si sta già facendo nei nostri ospedali tanto che sono aumentati i presidi quindi grazie grazie a Thomas Delbianco. Grazie a voi a presto. Adesso invece chiudiamo la pagina di cronaca e apriamo un altro capitolo. Più che altro ci dedichiamo alle eccellenze che arrivano dal territorio marchigiano. Avviciniamo la lente al territorio Piceno in particolare dal Piceno infatti è finito alla Coppa Davis. Parliamo dell'ascesa di Simone eh Vagnozzi allenatore di Yannick Sinner e qui con noi oggi abbiamo Beppi Zambone e Mariano Marcucci maestri di tennis. Salve salve ben trovati a vera mattina. Buongiorno ad entrambi. Buongiorno. Allora innanzitutto eh il vostro incontro vorrei capire come come è avvenuto Beppi. Allora lui era giovanissimo io gestivo tutta la tutta l'esolo tutto l'esolo tenistico. Parliamo ai nostri telespettatori. Tutto l'esolo tenistico e avevo preso due Ascolani perché naturalmente avevo nel 68 sono venuto ad aprire un centro federale ad Ascoli perché tenisticamente è molto importante Ascoli nel contesto tenistico. Ma io ma cosa c'entra Ascoli col tennis? Perché è importante? Ci sono più più maestre che alberi e l'hanno esportati in tutta Italia e Mariano poi dopo tanti anni anni dieci anni fa sono ritornato in Ascoli da Treviso. Io ero stato nel mio circolo a Mariano Panata. Il mio circolo ho preso qui e ho ripreso in mano il Morelli che ora si chiama Piceno. L'ho preso in mano volevo cambiarlo e tutto quanto. Nel frattempo chi è che viene? Trovo Mariano dopo tanti anni e mi viene insegnare il tennis lì il mio circolo. E chi è che comincia a insegnare? Comincia Massimiliano Ossini in quegli anni stava a Roma e stavano organizzando il Foro Italico Tennis and Friends. Beppi devi insegnarmi perché devo battere Bonolis. Era quello il suo bambino. E ha vinto il titolo. Ma c'è riuscito quindi? Sì, ha vinto il titolo. Ha vinto il titolo. Ha vinto il titolo. In quell'anno ha vinto il titolo grazie alle lezioni che ha fatto Mariano. Allora Mariano invece che cosa ci puoi dire di Simone Vagnozzi? Simone Vagnozzi praticamente io l'ho preso da bambino, da piccolo e è stato con me dieci anni quindi l'ho seguito diciamo dall'inizio, le prime nozioni di tennis all'agonismo. Sei visto subito che aveva talento? Sì, sì. Stavo appunto ricordando che la prima lezione che è venuta, siccome lui era piccolissimo, era molto piccolo come bambino e non aveva compiuto neanche i sei anni e la prima volta che il padre me l'ha portato io mi ero un po' preoccupato perché i ragazzi erano dieci anni, undici anni e lui era, gli ho detto al padre guarda vediamo un attimo perché non so se riesco a inserirlo con gli altri. Allora ho preso mia figlia che allora aveva 12 anni gli ho detto guarda Barbara per cortesia prendi un po' sto bambino e gli tiri qualche pallina magari vedi se puoi farlo. Dopo un po' mi chiamò mia figlia e mi dice guarda papà vedi questo bambino gli ha fatto 20 scambi di tennis e la prima lezione che ha fatto. Cioè un fenomeno già all'inizio. Incredibile, incredibile. e quindi... No e da qui sai c'è sempre la questione quanto conta il talento e quanto la formazione perché poi ovviamente no l'allenamento è importante la tecnica va acquisita ed è inevitabile però è chiaro che bisogna avere una predisposizione forse no? Questo sicuramente. Una passione non so. Cioè in mezzo a tanti ragazzi che ho poi insegnato diciamo che i talenti ce ne sono pochissimi e un talento come Simone era particolare anche perché lui ha dimostrato poi negli anni che era uno dei migliori bambini d'Italia a livello agonistico di tennis. Lui è stato premiato di recente a San Benedetto del Tronto e quale allenatore del tenista sinner e protagonista di Italia in Coppa Davis è stato premiato anche al Gran Galà dello Sport come a Scolano dell'anno. Noi abbiamo un'intervista realizzata al Circolo Maggione. Andiamola ad ascoltare insieme così poi proseguiamo insomma il racconto con i nostri ospiti. Prego dalla regia. Sentiamo. Ma fanno piacere sempre i premi da una parte o dall'altra. Sicuramente tornare a casa e ricevere questa ospedalità, questo premio molto molto importante. Senti, la tua carriera è partita con Cecchinato e ha trovato la svolta con Yannick Sinner. Un pregio tuo, un pregio di Sinner? Ma io penso che un pregio mio è sempre difficile farlo per me stesso. Penso che sia la passione che metto ogni giorno in questo lavoro. Mi piace, vado sempre in campo volentieri, mi piace tutto quello che comporta questo lavoro. Da parte di Yannick ha tanti pregi. Sicuramente uno è la disponibilità che lui mette ogni giorno, il saper ascoltare quindi rende la vita di noi allenatori di tutto il team più facile. I meriti diciamo in primi sono di Yannick, poi di tutto il team perché da solo non si può fare nulla. Abbiamo un team veramente di alto livello, dal preparatore atletico Umberto, i fisioterapisti, Darren che conoscete tutti che è un coach di primissimo livello quindi è un bel andare diciamo di condividere con loro tutto questo percorso. Il tennis marchigiano è sempre stato un tennis pieno di giocatori buoni. Adesso abbiamo anche qualche struttura che li può ospitare, che li può allenare e quindi io penso che come sempre secondo me avremo dei giocatori buoni. Ora Yannick è il numero tre al mondo. Quando c'è stato lo switch e su cosa avete lavorato? Ma io penso che le cose vengono un po' da lontano. Dall'inizio quando abbiamo iniziato a lavorare due anni fa l'obiettivo era di riuscire a rendere Yannick un giocatore completo e continuo da poter battere questi giocatori top 5 con continuità. Un passettino alla volta ci siamo riusciti adesso lui si sente in grado di poterlo fare tutte le volte che entra in campo e questo sicuramente fa la differenza. Ci sarà la possibilità di vederlo magari qui nel piciano anche per un'esibizione. Non lo so non voglio dire né sì né no questo non lo sappiamo dipende un po' dagli impegni. Naturalmente gli impegni sono sempre di più man mano che la sua carriera sta andando avanti quindi non si sa mai. Dunque Mariano tu che lo hai allenato l'hai visto crescere che cosa ci puoi dire di più di Vagnozzi anche del suo carattere perché ad esempio Sinner è molto apprezzato per la sua integrità anche la sua semplicità con cui si presenta segno evidente che ha un team dietro compreso Vagnozzi che condivide gli stessi valori. Simone anche lui è stato un giocatore quindi ha fatto diciamo esperienza da professionista quindi chiaramente ha acquisito oltre ad avere il talento da bambino eccetera c'è un ragazzo molto intelligente sicuramente lui ha trasmesso moltissimo a Sinner cioè a livello agonistico di esperienza sua. Chiaramente forse Simone ha avuto dei problemi a livello di altezza perché magari era un giocatore che io rivedo abbastanza bene Sinner un po' come giocava lui. Quindi la tradizione continua insomma. Sì insomma io mi sento anche partecipe su questa cosa qui. Ma lo credo bene ma voi ditemi una cosa che cosa avete provato quando è stata vinta la Coppa Davis perché insomma c'è un po' di questo territorio diciamoci la verità della scuola del tennis piceno che ha portato anche Beppi. Ti posso dire che la Coppa Davis l'ho vissuta dietro le quinte perché io scrivevo per dei giornali di Treviso e non guardavo la partita in se stessa quello che succedeva attorno. I giocatori in disperazione ad esempio quando amassò io il Brasile abbiamo perso noi siamo andati lì perché sembrava che dovessimo colonizzare il Brasile. Una cosa panata era capitano e disperato abbiamo perso l'abbiamo perso. Avevano fatto, pensa, il Capodoteo perché onoravano il presidente del vecchio presidente del Brasile e hanno fatto a Maceio, hanno fatto questa cosa in riva al mare, hanno messo delle strutture innocenti appoggiate non sul cemento, su delle tavolette di compensato e io facevo dietro le quinte quello che succede e abbiamo perso. Poi ho fatto a San Francisco quella Coppa Davis l'ho vista sempre dietro le quinte però andavo a parlare con i giocatori con questo e quell'altro quindi è sempre stata una cosa. Però ti dico una cosa importante. La fortuna, quando io vedo che a un certo punto Sinner cercava di abbandonare il suo vecchio maestro che era Piatti, hanno a un certo punto fanno telefonata a Bagnotti, Bagnotti ed era a Montecarlo. Lui ha morato tutto e corso subito a Montecarlo, l'ha iniziato la sua scalata. E tu invece come l'hai vissuta Mariano? La partita della vita insomma. Vediamo anche le immagini. Come l'hai vissuta tu? Praticamente per me aver visto già la prima Coppa d'Essica nel 1976 che io ero all'inizio della mia carriera, che è stato un boom ai tempi di Panatta eccetera eccetera, rivedere un mio allievo che ha allenato un giocatore a quei livelli e riportare la Coppa d'Essica è stata un'emozione incredibile, c'è una cosa incredibile. Cioè forse da un punto di vista questo Vagnozzi insomma ha un ragazzo intelligentissimo che praticamente ha dato a Sinner la fiducia che forse il ragazzo mancava negli ultimi anni. La sicurezza anche no? La sicurezza sì sì sì. Senti ma vi siete sentiti poi in questi ultimi mesi? Ma ultimamente Simone è difficile da da perché è molto impegnato eccetera eccetera però io l'anno scorso abbiamo fatto un memorial perché da bambino Simone ha vinto un campionato italiano Under 12 con altri tre ragazzi tra cui c'è un suo compagno che è morto per un incidente stradale da 19 anni. Abbiamo fatto un memorial per questo ragazzo e Simone io veramente non me l'aspettavo perché dico sai impegnatissimo che magari non viene. Invece è venuto e abbiamo abbiamo parlato un po' di tutto. Ti ha detto qualcosa di particolare che ti ha colpito? Ma sì io ero convinto che lui fosse un diciamo capace di portare avanti perché già aveva preso due giocatori, l'aveva portati avanti tipo Travaglia, Cecchinato l'aveva portato molto avanti e lui mi diceva sì con calma sempre partita per partita noi discutiamo cioè parliamo un po' delle tattiche, queste cose qua e soprattutto come adesso è successo anche a Roma che ha rinunciato Roma e Madrid soprattutto portare avanti un giocatore avanti col fisico no? cioè evitare di stressarlo, di farlo chiudere. E questo è importante anche perché si è consapevoli dei propri limiti e quindi non strafare ma essere centrati no? Centrati e salvaguardare il giocatore per il lungo termine. Esatto. Questo me l'ha detto lui personalmente. Ha detto noi infatti anche l'anno scorso si era fermato un periodo per un problemino adesso non ricordo quale e lui ha detto ci siamo fermati perché la prima cosa è salvaguardare la salute di Sinner anche per portarlo avanti nel futuro. Beppi tu che hai potente esperienza qual è il segreto di un team vincente nel tennis? Ti posso raccontare un aneddoto? Vagnozio è sempre lavorato con grande modestia, non si è mai messo sopra il piedistello. Io l'ho visto quando ha incominciato a allenare Cecchinato, è incredibile. Sto ragazzo siciliano, io pensavo fosse Veneto, Cecchinato non è Veneto perché naturalmente tu sei rovigotto, l'ho trovato. No, no, sono siciliano. E probabilmente ha detto i garibaldini quando sono di qui a qualche Veneto hanno lasciato un segno. Comunque io l'ho visto e è partito a prendere sto ragazzo Cecchinato e l'ha portato a giocare a Budapest le qualificazioni ed era stato eliminato nelle qualificazioni. Poi hanno ripescato e da lì lui ha vinto il torneo di Budapest e da lì ha cominciato la sua carriera. Quindi secondo te qual è il segreto? Beh intanto è bravissimo lui a prendere in mano questi giocatori che non sono dei grandi. Poi l'ho visto pure con Travaglia. L'ha stato Cecchinato, poi Cecchinato è andato in semifinale a Roland Garros. L'ha stato Cecchinato è andato con Travaglia. Travaglia è in fase assenzionale. E' arrivato numero 60 al mondo. Io l'ho intervistato prima del US Open tre anni fa, ero giù al Piceno. E ho detto ma cosa c'è di speciale Ascoli che tira fuori tutti questi giocatori? Perché poi noi avevamo anche Narducci che è stato in Coppa Davis anche lui. E cosa hanno di speciale? Perché ci sono tanti maestri, ma tutti bravi. Sono tutti bravi, sono sparsi un po' di qua un po' di là. San Benedetto è pieno di maestri di Ascolani. E questo, lo scopo è che loro si dedicano, hanno avuto intanto grandi, un grande, un grande, un grande motivatore che era Vittorio Roiatti. L'unico maestro delle tante d'Italia. Dovremo avere, chiedo alla nostra regia conferma, un altro estratto di una dichiarazione di Bagnozzi strappata nel corso del Galà dello Sport ad Ascoli Piceno. Se ce l'abbiamo la mandiamo in onda, altrimenti... Ok, ce l'abbiamo, sentiamolo un attimino. Sono partito nell'Ascolano a giocare a tennis, quindi è un riconoscimento che mi fa un enorme piacere. Sicuramente allenare Yannick è un'emozione, no? Questa è un'emozione, come durante l'anno ce ne sono tantissime. E niente, è un bellissimo viaggio e spero che possa continuare ancora per tanto. Simone, hai fatto emozionare un po' tutta la città di Ascoli, ma tutto il Piceno. Sapere che dietro quel gran successo c'è anche una parte di terra picena. Sì, sicuramente, no? Io sono partito da Castorano, esattamente, da San Silvestro, quindi un piccolo paesino. Tante volte durante l'intervista ho detto che questo magari può dare anche una speranza a quelli che partono da un piccolo paesino come ho fatto io e magari arrivare a questi traguardi. E dietro questo arrivo, in questi traguardi, sicuramente c'è tanto lavoro e che cos'altro? Ma sicuramente lavoro, ma anche tantissima passione, no? Alla fine questo sport bisogna girare tanto. Come vedete siamo sempre su degli aerei, sempre in situazioni non facili, però con la passione si possono raggiungere, come ho detto prima, traguardi importanti. Cari miei maestri, Bebi Zambone e Mariano Marcucci, è bello il messaggio che lancia Vagnozzi, perché lui dice proprio chiaramente io sono partito da Castorano e sono arrivato a questi livelli, no? Quindi è un messaggio forte anche per i giovani, perché insomma voi avete una certa esperienza, avete fatto la vostra strada e potete solo insegnare. Però per chi si approccia adesso al tennis non deve assolutamente demordere, perché si può partire anche da un piccolo livello e un piccolo territorio e andare a vincere nel mondo. Esatto. È vero? Cioè praticamente ognuno di noi magari non sa mai, neanche, anche io quando ho iniziato a insegnare non pensavo mai che poi un mio allievo arrivasse a questi livelli. Beh, motivo di grande orgoglio immagino, no? Sì, tantissimo, tantissimo. Immagino che sia stato un traguardo anche per te. Sì, 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 sicuramente mi ha rianviato un po' la passione del tema, anche perché io comincio ad avere un'età, magari stavo un po' spegnendomi, no? Nel senso, vabbè, adesso magari piano piano... A giochi sempre a tennis o insegni soltanto? Sì, sì, qualcosa diciamo a livello quasi amatoriale, diciamo, facciamo ancora qualcosa. Allora Beppi, invogliamo un po' questi giovani a darsi al tennis. Dieci anni fa, vedevo adesso il ventidio basso, sto premiato, e la stessa serata sto premiato anch'io perché ho vinto il titolo europeo in Spagna. Certo. Nei segni, perché io giocavo per i giornali di Sicilia. E vedevo, sono passati dieci anni, e ci siamo incontrati lì sul palco, lui da una parte o dall'altra, e mi diceva, ma tu ti ricordi? Sì, ma Mariano è stato il mio maestro, diceva Agnozzi. Ma dieci anni fa, e quindi ancora non era, incominciava ancora la scalata. La scalata, sì, è un punto, questo, no? Beh, non credo proprio che Agnozzi sia uno sportivo che dimentica da dove è partito e con chi è partito, tanto che lo ha dimostrato in quella intervista, ma poi lo dimostra tutti i giorni, secondo me, con il proprio atteggiamento, no? Quindi, complimenti, complimenti ai nostri maestri soprattutto, eh? Io vi ringrazio per essere stati qui, anche per aver portato, insomma, questo bel messaggio rivolto ai giovani per lo sport, quello sano, eh? Peccato che adesso purtroppo tutti quanti, che i bambini, che erano tutti quanti, aspettavano Sine, perché Sine ha creato un movimento in Italia incredibile, si è decolpicato il numero degli iscritti. È vero, è vero. Siamo arrivati ancora di più tutti, tutti. Siamo arrivati a livello di tomba, di Valentino Rossi, di tutti questi campioni. Beh, i campioni, comunque, la loro personalità fa tanto, eh? Certo, certo, sì, ma questo ha smosso un ambiente un po' particolare. È vero. Perché sai, Panatta ha preso il mio circolo, ma non era così. Panatta è diventata famoso, oltre che ha preso il mio circolo, è diventato il suo regno adesso. 50.000 metri in centro città a Treviso, poi ha sposato una trevisana, quindi è diventato grande. Ah, vedi, insomma, Beppi, anche il gossip ci racconta. Va bene, grazie a Beppi Zambone e a Mariano Marcucci per essere stati con noi. Fermi qui, andiamo in pubblicità e ci vediamo tra pochissimo. Dunque, vi aspettiamo. Grazie a tutti.